Ciao amici, è l'ultimo giorno, spuntino, in realtà colazione con spiedini asiatici, mi ricordano tanto quelli thailandesi e sembrano buoni. All right, well, tell me. Sì, secondo spuntino. Questo è pranzo, no? Poglio e patata. L'ho pagato meglio e mi hanno portato un quarto. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo un po' tristi perché incominciavamo veramente a sentirci a casa. Nel nostro villaggio, con i nostri vicini. Un clima di pace, di festa, musica bella. E vabbè, incontriamoci l'ultima serata allora. Sono tutti super carichi. Siamo un po' tristi. Siamo un po' tristi. Questi sono così da una settimana, sono sempre lì, mai visti in giro. Siamo un po' tristi. Grazie a tutti.